È veramente uno scandalo che l'unica strada alternativa che consente di bypassare l'Ai45, quindi di mantenere i collegamenti tra l'Alta Valle del Tevere, Umbre Toscana, la Valle del Sabio, quindi di non dividere in due l'Italia, sia chiusa e abbandonata da quasi vent'anni. La vecchia statale Tiberina Trebbissa è di fatto l'unica alternativa concreta all'Ai45 dopo la chiusura e il sequestro del viadotto Puleto al confine tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Il tratto che costeggia la superstrada è però chiuso al traffico da anni in quanto particolarmente dissestato e quindi pericoloso. La statale adesso è finita al centro di un esposto presentato alla procura di Arezzo con il quale ci si interroga sull'imminente futuro della strada ma anche sul suo passato. Per il tratto ci sarebbe infatti un finanziamento ministeriale da 2,6 milioni di euro che non è mai stato erogato. Nel 2017, a fine anno, il Comune di Pieve Santo Stefano ha ratificato con ANAS un accordo, una convenzione per sistemare la strada e spendere 2 milioni e mezzo di euro. Insomma, sono passati 20 anni e ci troviamo con la catastrofe, cioè con l'E45 che è stata chiusa, anche giustamente, in attesa che si sistemi e l'Italia tagliata in due. Le nostre piccole e medie imprese incominceranno a soffrire e è un disastro per il territorio. Voi quindi cosa chiedete? Guardi, io ho tanto tempo che lo chiedo. Io chiedo che si chiede, uno, di intervenire velocemente per risistemare la viabilità alternativa e questo è importante perché sono 20 anni che è abbandonata. Due, che si intervenga velocemente per sistemare l'E45 e ridarla alla nostra gente perché è una strada che consente di sviluppare la nostra piccola e medie imprese e la nostra economia. Per domenica 20 gennaio, infine, è stato organizzato un sit-in di protesta dal gruppo Facebook Vergogna e 45 a Pieve Santo Stefano. Facendo capire alla politica e alle istituzioni che su questi temi, su questo tema in particolare, si rischia il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e il nostro benessere. Se le nostre aziende chiudono, non sono competitive, diciamo che è finita per tutti.